supernova 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 ciao a tutti eccoci in questo nuovo video di mario e sonic allora direi di cominciare subito con il nuovo evento nel senso che faremo oggi cioè il calcio che ve l'avevo detto anche nello scorso episodio cioè nel 13 anche se questo è il numero 15 ma intendo nello scorso episodio in cui abbiamo fatto cioè uno sport ed è il calcio appunto allora come personaggio avevate scelto un po' tutti i personaggi in generale cioè nel senso molti ne erano stati scelti ma in particolare Shadow e direi allora di utilizzarlo per questo episodio usa i pulsanti per giocare qui lo sappiamo anche perchè abbiamo l'abbiamo appena fatto il calcio nella storia quindi iniziamo ah mi sono dimenticato di impostare diciamo al tempo queste cose qua eh vabbè contro Yoshi perfetto contro tanti Yoshi anzi quindi iniziamo vediamo un po' di combinare qualcosa visto che già è incredibile quello che avevamo fatto ecco ok eh nella nella storia ecco ce l'ho fatta a dirlo vai con il cross in mezzo attenzione uno a zero subito proprio si parte bene grande Shadow non so chi sono quegli altri personaggi che abbiamo in squadra ma vabbè perchè non conosco bene diciamo ehm il gioco di Sonic dai attenzione ed è due a zero ok mi sembra un po' troppo semplice è la storia perchè sto segnando troppo facilmente già nella parte del della storia era molto più semplice cioè molto più difficile che più semplice anzi adesso devo riuscire a segnare di pallonetto ci devo riuscire qua qua ci devo riuscire no visto che tanto siamo due a zero quindi senza dover segnare troppi gol che brutto segnare tanti gol nel senso ehm allora dai voglio segnare di pallonetto no perchè non l'ha crossata ho schiacciato tre volte almeno e non me l'ha preso fermiamo Yoshi no non ci voleva grande paratona nostro portiere grande attenzione ah Sonic eh sì Sonic Shadow vai pallonetto no va sempre a finire così no perchè io per fare il pallonetto schiaccio il pulsante che si usa per il cross e quindi me lo prende come cross ecco qui non so per quale motivo ha fatto questa cosa qua dicevo lo prende come cross e quindi non cioè è quasi impossibile che riesco a segnare così è per questo che me lo para attenzione tiriamo da qui come è passata non lo so ma l'importante è aver segnato anche perchè hanno lì un portiere che è un gigante non so come ha fatto a passare la palla vabbè dettagli dai che abbiamo fermato Yoshi che aveva il super tiro e abbiamo fatto anche un bel fallaccio su uno Yoshi su un altro Yoshi non il capitano grazie per il bel passaggio dai che avanziamo mancano 30 secondi ti crossi in mezzo il pallonetto paratona cioè paratona sì vabbè più o meno dai attenzione questa la devo segnare no la crossata in mezzo e vabbè dai dai no il super tiro no fermatelo oh mamma che razza di tiro è no 2 a 1 3 a 1 anzi vabbè dai va bene lo stesso anche il 3 a 1 e come risultato ci sta sono sempre due gol di vantaggio anzi no perchè io faccio così che bomba attenzione 4 a 1 grandissimi ok chi è che ha parlato qualcuno ha detto nessuno può superarmi anche se c'aveva ragione mi sa che è stato sì è stato shadow e ha fatto un altro bel fallaccio mi sa che si è un po' arrabbiato il nostro shadow dai ok grande passata di là avanziamo avanziamo così anche se non posso correre attenzione cosa ha fatto non l'ha beccata cioè non l'ha presa ma c'era mancata in un modo incredibile attenzione pallonetto arriva alta eh vabbè dai a parte che da lì era un po' difficile segnare così eh ma sono dettagli sono dettagli state tranquilli che sono dettagli questa entra dai no mi sembra una cosa un po' impossibile segnare di pallonetto ma io ci riprovo io ci riprovo guardate qua e le para sempre eh vabbè attenzione no intervallo ero lì pronto per provarci ancora dai 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 che si ricomincia con secondo tempo siamo 4 a 1 e diciamo che mi sono anche un bel po' risparmiato sui gol perché ho cercato di fare il pallonetto ci riproviamo è impossibile cioè lo so ormai io l'ho capito che è impossibile però ci sto provando lo stesso per qualche strano motivo calcio di punizione vediamo un po' ce la ripassa vero no l'ha passata si ce l'ha passata grande grazie gentile Yoshi dai che no qui è meglio fermarsi no questo mi segue in un modo cioè è difficile stare dietro mi stava seguendo attenzione dai io tiro e infatti la parata questa volta non ho fatto il pallonetto però da lì mi sembrava difficile anche segnare cioè normalmente figuriamoci col pallonetto no non deve passarla a Yoshi a quello con il super tiro non gliela deve passare e gliela passata è perfetto ok attenzione oh buono non riuscivo più a capire nemmeno cosa stava succedendo tira no dai no l'ha presa lui ecco queste golle invece no invece no dai veloce prima che cioè intanto che si rialza ok perché l'ha tirata fuori maledizione dai fagli un bel fallaccio mamma mia questo è stato un bel gol però eh tiro al volo di Yoshi guardateli come esulta lo Yoshino dai andiamo avanti tanto noi siamo in vantaggio ancora di eh tre go no due gol siamo quattro a due se non sbagli siamo quattro a due vero sì sì quattro a due no io sto guardando nello schermo sotto mi ero un momento confuso sono dettagli dai non è fallo questo ma come fa ad essere fallo adesso segna vai ah la passata per quale motivo avrebbe dovuto fare ciò boh tanto noi adesso andiamo a segnare un altro a parte che abbiamo pure un super tiro quindi sfruttiamolo no eccolo e arriva il gol no qui potevo fare il pallonetto qua lo potevo fare non ci posso credere mi sono dimenticato mi è venuto in mente dopo eh però almeno ci riuscivo in quel caso eh dai ci riprovo nella prossima partita e anche adesso eh assolutamente no adesso però tiro normale così impari a pararmi tutti i pallonetti ok c'è 6 a 2 ma mi sembra già conclusa nel senso del risultato la partita ma noi continuiamo a provarci perché io voglio riuscire a fare il gol di pallonetto anche se non riesco neanche ad avvicinarmi in più alla porta vai no assolutamente no questa non era solo alta cioè non era alta ma ehm cioè precisione proprio zero dai che c'è lì uno Yoshi con il super tiro e Yoshi grazie per la palla no si no no non l'abbiamo presa no via ok grandi ok c'è il tempo di recupero minuto di recupero attenzione no ho sbagliato attenzione alla respinta no dai non è possibile come fa a essere fallo questo no mi sono mosso se non la prendevo io direttamente ok questo non è stato un proprio un tiro perfetto no cosa ha fatto perché non ha tirato io mi voglio voglio mi voglio cioè mi chiedo che tiro da qua è sbaglio attenzione a porta vuota che gol incredibile proprio dai dai che arriviamo 8 a 2 se non finisce adesso perché mi sa che non finisce invece attenzione no forse c'è un c'è il tempo per un'ultima per un'ultimo attacco stavo per dire ma invece no quindi è finita 7 a 2 ok grandissimi abbiamo vinto incredibile proprio eh allora direi di provare a fare una partita con l'evento calcio plus direi di farne un'altra cioè cambiando sport subito perché se no non c'è tempo se no dura troppo il video allora usiamo ancora son eh sì perché me lo confondo non lo so shadow volevo dire vi faccio vedere velocemente com'è il il calcio plus e aspetta questa volta voglio vedere le regole ok 4 minuti no dai possono andare bene 2 minuti per sì sì dai può anche andare bene o almeno credo forse sarebbe meglio fare da 2 minuti anche se no abbiamo fatto già una da 4 facciamo un'altra da 4 questa volta contro Daisy ok perfetto vediamo di vincere anche questa Daisy e tutti gli struzzi perché quei personagini lì si chiamano struzzi vengono cioè sono di super mario bros 2 no vediamo di non uscire già no ok non abbiamo iniziato forse molto bene ma sono dettagli cross in mezzo e c'è il gol di shadow 1 a 0 il gol dell'ombra tradotto perfetto dai piglia no maledizione ok dai che voglio caricare prima con l'indicatore lì prima di tirare in porta sempre se ci riesco perché dai rimaniamo fermi macchie buono stavolta questa è l'occasione per un pallonetto no non ci credo non ci credo cosa ho sbagliato volevo fare il pallonetto da lì no non ci voleva questa prendi questo allora no volevo fare il pallonetto questa volta non ci riuscirò mai lo sapete detto semplicemente da tutto quello che sta succedendo ci vorrebbe un'occasione come quella di prima dai dai no non ci voleva dai ok dai che lo ricarichiamo crossala no maledizione fallo perché non è fallo che razza di arbitro c'è a parte che non c'è nemmeno l'arbitro no via di lì via di lì mamma mia paratona via mamma mia che portiere vai con shadow ok grande abbiamo ricaricato macchie perfette quella che volevo no no di nuovo troppo alta prima era troppo bassa adesso il contrario questa volta no eh invece si ah me l'ha travolto di nuovo povero shadow mancano 30 secondi ok fallo perché dai daisy passaci la palla come come faceva prima yoshi come facevano prima gli yoshi tanto quella abbiamo sparata via a caso dai che c'è il super tiro forse se si carica no ok eccolo qua vai con il 3 a 0 forse si grandi che precisione però eh mamma mia 3 a 0 tripletta di shadow se non sbaglio mamma mia la vorrei nella mia squadra ok calcio di punizione come sempre ci vorrebbero i cartellini però eh anche i falli di mano anche se non tutti qua in questo gioco hanno le mani no ok 3 a 1 come prima mi sembra cioè nel primo tempo era finita 4 a 1 se non sbaglio vabbè qui ormai siamo 5 secondi dalla fine ci sarà il tempo di recupero quindi dai facciamolo a finire come prima no mi sembra difficile però dopo aver fatto questa stupidata qua dai forse no prendetegli quella palla agli struzzi a quello struzzi dai muoviti no mamma mia non ci credo ne ha storditi 2 no 3 a 2 anzi invece di segnare noi l'ultimo gol l'hanno segnato loro perfetto se io ti po' tiro da qua ma si proviamoci è assolutamente non va dai che tira da qui mamma mia fuori di poco va bene lo stesso dai 3 a 2 stanno facendo una rimonta proprio incredibile se ne segnano un altro pareggiano dai dai muoviti prendete quella palla no no non devono attivare la tecnica no ok non hanno meno male abbiamo preso palla noi e non ci posso credere 3 a 3 hanno pareggiato come è possibile maledetto struzzi qui è finito il tempo eh si ma proprio alla fine eh ma farlo durare un attimo di meno recupero no eh ma anche no eeeh vabbè dai no ok prendete no dai robot non so come si chiama ma non è possibile non riesco più ad avanzare dai col cross in mezzo ed eccolo qua è 4 a 3 ok 4 a 3 di shadow poker di shadow 4 wall se non sbaglio cioè mi sembra un secondo non mi ricordo chi l'ha fatto eh forse l'ha fatto anche lui almeno credo dai questa volta voglio far ricaricare il coso anzi forse è meglio di no cioè il l'indicatore in alto però forse è stato meglio segnare il 5 a 3 adesso noi facciamo il 6 a 3 e loro poi rimontano di nuovo e fanno 6 a 6 volete vedere che va a finire così magari chi lo sa potrebbe anche finire in un altro modo ma io per sicurezza voglio finire ecco io ho fatto il 6 a 3 adesso voglio proprio vedere se loro ne segnano altri 3 perché potrebbe anche andare a finire male cioè che tipo però chissà se ci sono i supplementari origoni in questo gioco eh vorrei tanto sapere sta cosa sono curioso di sapere se ci sono anche oh mamma ok blocca portata e blocca blocca portata invece di porta bloccata a caso proprio questa proprio ah ok in quel senso la porta è bloccata ok buono adesso chissà se per un po' di tempo finché non è loro non tirano in porta vai con il tiro speciale adesso grandissimi 4 a 0 cioè 4 a 0 nel secondo tempo sarebbe 7 a 3 perfetto ok la vedo dura che adesso loro rimontano 4 gole anche se pure prima era difficile che rimontassero 3 gole e l'hanno fatto attenzione al tiro qua troppo lontano qui ogni tanto si sente shadow che dice strane cose para la portiere grande così perfetto no prendetelo fermatelo fallo eh no non ci siamo così però eh non è che mancano 40 secondi anzi 39 ok grazie io adesso la sparo via mamma mia che rinvio no fermatela dai ma non è possibile ecco da lì è un po' pericoloso il calcio di punizione invece no se fa così assolutamente no ora la spariamo a quel tizio là se la prende assolutamente no la ha preso eh shadow stavo dicendo ancora sonic nessuno può superarmi no come ha fatto che razza di dribbling ha fatto ok qui non cioè non so perché l'ha passata indietro però aveva dribblato due miei giocatori in un modo incredibile ah qui non ho capito cosa ha detto shadow qualcuno che prende quella palla no eh no no li sta dribblando tutti certo che la stiamo facendo fuori Daisy eh ma distruggendo in modo terribile proprio no ah capisco no ha fatto fuori la no ha fatto fuori la barriera e poi erano tutti a terra perché c'era il pau ok e questo è il primo spero che non ne fanno altri tre perché se no veramente siamo nei guai siamo nel tempo di recupero quindi non sarebbe neanche una bella cosa dai veloci dai segniamone un altro dai sonic ed ecco palo no palo non ci credo stavo già esultando non credevo che fosse possibile una cosa del genere e invece si può prendere il palo pure su questo gioco e intanto il difensore che cioè il portiere che travolge il suo stesso difensore eh vabbè ma l'importante è aver vinto mamma mia che faticaccia questa volta soprattutto dopo la incredibile rimonta del primo tempo di Daisy però abbiamo vinto ok questo è l'importante col calcio è diciamo si fanno un po' meno partite però neanche cioè anche nel senso durano di più però eh non so non mi ricordo più cosa stavo dicendo boh ok allora direi che per questo video è tutto intanto vi ricordo eh lo sport che faremo nel prossimo episodio sarà i 100 metri allora intanto vi faccio scegliere i personaggi i 100 metri non mi sembra di averli già fatti no se non sbaglio o no poi ci saranno i 110 metri ostacoli e poi non mi ricordo gli altri che mancano aspetta eh ah si poi c'è il salto e il lungo non mi ricordo forse quello l'avevano già fatto forse no vabbè in ogni caso vi faccio vedere i personaggi che potremmo fare cioè che faremo cioè che potrete scegliere per l'evento dei 100 metri abbiamo Mario Sonic come sempre Shadow Yoshi e al posto di Daisy nel calcio abbiamo Metal Sonic vi faccio vedere le parametri quelli di Mario già le conoscete Sonic pure Shadow vabbè l'abbiamo visto oggi e nello scorso episodio Yoshi pure uguale e Metal Sonic quindi questi sono quelli di Metal Sonic ehm scegliete voi quale volete che uso nel prossimo episodio nell'evento dei 100 metri e 100 metri plus mamma mia sono già curioso di vedere cosa sarà poi ci saranno questi e questo il salto è lungo no non l'abbiamo fatto forse il salto è lungo ok direi che allora per questo video è tutto io vi ricordo se volete di iscrivervi al canale se lo avete già fatto anche i miei profili Twitter e più in particolare Facebook perché è lì che vi aggiorno sulle notizie che riguardano il canale se magari ci sono problemi o ritardi con i video vi aggiorno sempre lì su Facebook trovate il link dei miei profili in descrizione di tutti i video del canale trovate in descrizione anche il mio Nintendo Network ID che potete utilizzare se magari volete mandarmi una richiesta di amicizia oppure seguirmi sul Miiverse della Wii U ci vediamo al prossimo video ciao a tutti